Ciao cari follower, benvenuti nel mio canale, oggi condividerò un nuovissimo video per voi. Condivideremo nuove immagini speciali per i loro fan dai nostri attori di successo Osh Gurel e Serkan Kayoglu. Dopodiché, non sono ancora tornati in Turchia. Il fatto che due nomi di successo continuino la loro vita all'estero non passa inosservato. Per immagini nuove di Zecca e grandi condivisioni da Serkan Kayoglu e Osh Gurel, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace al mio video e supportarci. Ciao! 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 Ciao!